Sarà la scuola più green del comune di Fano, quella che verrà realizzata per le frazioni di Carrara e Cucurano. Nella sala della Concordia l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi, assieme al suo collega all'istruzione Mascarini e al sindaco Massimo Seri, hanno presentato il bando per il progetto integrato pubblicato in gazzetta ufficiale il 15 aprile per la realizzazione della scuola che avrà una capienza di 280 alunni, 10 aule verdi, 4 laboratori ed una palestra che potrà essere utilizzata anche in orari extrascolastici e verrà realizzata con concezioni all'avanguardia sul fronte energetico. Il bando scade il 31 di maggio e pensiamo di poter iniziare i lavori se tutto va bene entro la fine di quest'anno, come avevamo promesso al comitato e come ci avevano consigliato i nostri tecnici. È un appalto molto importante anche perché questa sarà una scuola veramente green. Avrà le aule, che saranno 10, usciranno direttamente sul pergolato costruito sul giardino, quindi la didattica si svolgerà anche su richiesta del corpo docenti sia all'interno delle aule sia all'esterno. Sarà una scuola la cui cura dell'impiantistica è evidente e mirata al risparmio energetico. Lo consumerà pochissimo sia per tecnologia di costruzione, sia per la presenza di un impianto aerotermico, sia per la presenza di un impianto fotovoltaico che alimenta a sua volta un impianto pompe di calore. Questa scuola e la sua realizzazione stanno particolarmente cari al sindaco che ne fece, ai tempi della sua campagna elettorale, un cavallo di battaglia. Quando mi sono insediato e abbiamo incontrato tutti i dirigenti scolastici della città, ci hanno tutti evidenziato le grosse lacune che le nostre strutture avevano e ci siamo dati un programma di mandato dove abbiamo programmato una serie di interventi a cominciare dalle barriere architettoniche, già abbiamo realizzato due ascensori, l'efficientamento energetico e volevamo realizzare la scuola di Carrara e Cucurano. Oggi a tutti gli effetti abbiamo appaltato i lavori, quindi si va veramente alla realizzazione. Così una battuta, ieri parlando con un cittadino mi ha detto Sindaco, quando si è insediato, se avesse dovuto fare una scommessa sulla relazione della scuola di Carrara e Cucurano avrei scommesso tanto che non si sarebbe realizzata. Ma dirò di più, non ci fermiamo qua perché penso che entro l'anno saremo in grado forse, ma molto probabilmente, di dire che realizzeremo anche un'altra struttura scolastica per i nostri ragazzi.